Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 36 nuovi casi di positività al Covid-19. Nella città di Agropoli al contempo si registrano anche 11 guariti. Il totale dei positivi attuali e quindi di 318 non si segnalano casi gravi. Invitiamo tutti a rispettare sempre le normative anti-Covid e a indossare anche all'aperto i dispositivi di protezione. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente non appena trasmessi all'ASL o dalla piattaforma regionale 2022. A causa di un guasto alle apparecchiature e all'alto numero di tamponi da processare nell'area sud di Salerno, le comunicazioni dei bollettini da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL stanno subendo dei ritardi. I dati sono forniti dalla piattaforma soresa della regione Campania. Per maggiori informazioni è possibile consultare il link presente sul sito del Comune di Agropoli.